Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video. In questo video tutorial, vi insegnerò a creare un secondo canale di YouTube con lo stesso account. Iniziamo subito. Andiamo sul nostro canale principale, cliccando a destra in alto sulla nostra icona e clicchiamo su canale YouTube, si aprirà una pagina account. Ora clicchiamo su aggiungi o modifica i tuoi canali. Poi clicchiamo su crea un canale. Qui, scriviamo il nome del nuovo canale. Dopo che abbiamo scelto il nome del canale, clicca su crea. Ottimo, abbiamo creato il nuovo canale. Ora dovremo modificare la parte grafica. Se abbiamo già pronto la grafica, allora possiamo continuare con il video. Iniziamo ad inserire l'immagine di profilo, clicchiamo su carica. Cerchiamo l'immagine della cartella dove l'abbiamo salvata e carichiamola. Adesso potremo ridimensionare l'immagine a nostro piacere. Adesso carichiamo l'immagine banner. Con le dimensioni consigliate, facciamo lo stesso procedimento come per l'immagine profilo. Clicchiamo su informazioni di base. Scriviamo una descrizione che descriverà i contenuti del canale e anche dei tipi di video che andrai a pubblicare. Una volta completato clicchiamo su pubblica. Ottimo lavoro. Abbiamo completato la creazione del nuovo canale. Grazie per aver guardato questo video, non perderti i nuovi video e iscriviti al mio canale.